lamponi non siamo lamponi telmo noi due siamo piccoli quattro certo mi sono confuso perché oggi siamo andati nella foresta e abbiamo raccolto tanti piccoli frutti selvatici che ci serviranno per preparare il piatto del giorno insalata di frutti di bosco per poter fare un insalata di frutti di bosco avremo sicuramente bisogno di fragole